Buonasera a tutti, io sono Alice Basso, questa è la mia terza fatica letteraria, come dicono quelli che pensano che a scrivere non ci si diverta, si intitola non dito nello scrittore, ed è il terzo libro della saga che ha per protagonista la ghostwriter Vani Sarga. Sono libri che parlano di libri, nel senso che sono ambientati nella casa editrice, si parla un sacco di libri belli, sono un po' dei gialli, ma sono un po', sono io spero divertenti, mi sono divertita a scrivere, spero che vi divertiate anche voi a leggere.